Si avvicinano le ATP Finals di Torino e già ne succedono delle belle. Il torneo italiano ospiterà tra i migliori tennisti al mondo, tra cui Sinner, Zverev e Alcaraz. Andiamo a vedere cos'è successo di recente. Durante gli allenamenti a Torino si sono verificati degli episodi curiosi. Protagonisti stavolta sono stati Carlos Alcaraz e Alexander Zverev che hanno condiviso una sessione di lavoro sul campo della Inalpi Arena. Non sono mancati anche scambi a tutto braccio, con qualche imprevisto che lascia anche sorridere. Sui profili ufficiali della Federazione Italiana Tennis e Paddle infatti è stato caricato un video molto divertente. A fine allenamento i coach hanno concesso loro di tirare a tutto braccio, al massimo dei giri. Una serie di bordate che ha portato addirittura alla rottura delle palline. Alcaraz appare divertito e ha mostrato proprio le palline alla telecamera, sussurrando, le abbiamo distrutte. D'altronde la sua potenza nei colpi non è di sicuro una novità. Parlando del torneo Alcaraz e Zverev hanno scoperto di essere nello stesso gruppo, quello John Newcombe. Entrambi hanno evitato dunque la sfida con Sinner che potrebbe arrivare per entrambi o in semifinale o in finale, a seconda di come andranno. Il tennista spagnolo e quello tedesco saranno in campo per l'esordio nelle ATP Finals lunedì prossimo. Entrambi partono favoriti, ovviamente, e anche Sinner è tra i più quotati. A giudicare dagli allenamenti, le racchette di Zverev e Alcaraz sono belle calde.